E' una giornata molto importante per la città perché ricordo che gli attuali treni che circolano sulla linea 1 della metropolitana sono di vecchia progettazione, sono una progettazione degli anni 80 e mi sembra che le consegne dei treni sono state effettuate dal 93 al 2008. Indirittura d'arrivo i nuovi treni della metropolitana, in tutto saranno 20 e per i primi 10 è stato firmato oggi il contratto di acquisto con la società spagnola giudicataria della gara. La spesa complessiva sarà di 192 milioni di euro, suddivisi fra fondi POR, Patto per Napoli e Mutui. Le nuove vetture saranno dotate di impianto di incondizionamento e sistemi per la riduzione del rumore e trasporteranno contemporaneamente fino a 4 carrozzelle per diversamente abili e circa 1200 persone, di cui 130 sedute. La stipula del contratto per gli ulteriori 10 treni avverrà entro quest'anno, mentre il primo vagone sarà consegnato entro il 2019 ed i successivi ognuno a distanza di 30 giorni. Ci consentirà anche nei prossimi anni, in cui porteremo la metropolitana, prima al centro direzionale, poi a Capodichino, di mantenere finalmente una frequenza di passaggio per i treni intorno ai 4-5 minuti, quindi riportando la città di Napoli sui standard per i treni europei. Quindi, ripeto, è un contratto da lungo per entiatteso, perché per molto tempo si è disatteso l'idea di partire con l'acquisto dei treni. Sono fatte le strade per rate, ma non è stato fatto i treni. Abbiamo già un accordo per il quale loro cercheranno di ridurre al massimo, per quanto possibile, praticamente i tempi di fornitura. Alla CAF siamo veramente molto onorati di aver potervinto questa gara e che ci consente oggi di firmare questo contratto per la fornitura di questi nuovi treni, che saranno in esercizio, come diceva l'assessore, sulla linea 1 della metropolitana di Napoli, che è una linea così importante, non solo per la città, ma anche riconosciuta a livello internazionale per la sua qualità. Quindi per noi siamo veramente graditi di avere questa opportunità e ci mettiamo a lavorare per dare il meglio, evidentemente sulla qualità, il servizio che poi daranno a questi nuovi veicoli nella città di Napoli.